Noi abbiamo fatto dei controlli un po' in tutta la regione proprio per far sì che vengano tutelati anche gli esercenti che lavorano e operano nel rispetto delle regole. Blatte morte ed escrementi di topi sui pavimenti e nei contenitori degli alimenti, venduti sfusi magazzini faticenti con la presenza di insetti, sono alcune delle irregolarità che hanno portato i carabinieri del NAS a Bruzzo di Pescara a sequestrare circa 6 tonnellate di alimenti in un deposito di generi alimentari a servizio di un discount nel chietino di un supermercato nella piana del Fucino. Le attività che complessivamente avevano un giro d'affari di 2 milioni di euro sono state sospese e denunciati i titolari per reati contro la salute pubblica mentre i militari hanno elevato circa 20.000 euro di sanzioni amministrative e segnalato 8 persone all'autorità sanitaria e amministrativa. Di fronte a situazioni gravi è logico che vengono intrapresi dei provvedimenti e quindi si adottino questi provvedimenti così severi. L'operazione a cui ha collaborato anche il personale della ASL rientra nella serie di controlli nei principali supermercati e nelle aziende produttrici di conserve alimentari della regione. Controlli tesi a verificare il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie non soltanto nei punti vendita ma anche nei magazzini annessi a negozi e a supermercati e proprio da queste ispezioni estese anche alle pertinenze abbiamo dovuto in un certo senso stigmatizzare alcune situazioni gravi che comportavano addirittura un cattivo stato di conservazione di alimenti, alimenti sia secchi che anche freschi e per questo sono scaturiti dei sequestri sanitari e penali di oltre 6 tonnellate di alimenti, di cibi.